Bild, sparatoria in Germania, diversi morti e feriti. Una sparatoria in Germania, nel Baden-Württemberg, ha causato morti e feriti. La polizia ha confermato che il presunto assalitore è un cacciatore. Sono stati inviati mezzi di soccorso e elicotteri sul posto. Il Ministero degli Interni del Baden-Württemberg ha dichiarato che è in corso. Un'operazione di polizia. L'attacco è avvenuto all'Autlingen.